Buongiorno ascoltatori di YouTube, sono Aldo, sottoscritto, guardare dove sono in questo momento, c'è un po' nebiato, sono al Lago Maggiore, esattamente al paese di Porta Valtravaglia, sotto un albero piangente, sì a me piacciono gli alberi piangenti, quella è la sponda del Lago Maggiore dalla parte di Calde Porta Valtravaglia di fronte a me, c'è una bella spiaggia sabbiosa, sembra di essere il mare, ma intanto Aldo se ne approfitta a fare il picnic, qui all'aria buona, salobre, vista lago, Lago Maggiore, parte Lombarda, vi saluto ascoltatori, guardate là in fondo il promontorio di Calde, dove ora vado per andare poi a Gallarate, vi saluto da questi pini talici, oggi ricordo un remember qui, faccio un bel picnic e intanto saluto il mio amico che mi ha venduto questo buon cibo al pranzo da mangiare, direi è una merenda ma pranzo, saluto Gigetto, Gigetto al supermercato Unes, sono Aldo, ricordi il pittore, il pittore, dal salice piangente, un ricordo penso che non sia un impianto adesso salutare una persona e rivederla poi successivamente altre volte, vi saluto ascoltatori di Youtube dal Lago Maggiore, parte Lombarda, ciao da Aldo!